Promessa alla mamma Un mio alunno di quarta elementare mi dice Ho fatto una promessa alla mamma, lei mi ha chiesto di essere più intelligente. E che cosa significa per la tua mamma essere più intelligente? Scrivere meglio. E per te che cosa significa? Essere felice. Commento La coscienza attua il pieno collegamento con il corpo fisico intorno ai 21 anni, ma è latente sin dai primi anni di vita, anche se non è presente, come il corpo fisico e il corpo astrale. Il corpo mentale sarà pienamente presente verso i 13 anni. Succede allora che alcuni bambini, la cui coscienza è meno latente di altri, danno delle risposte che ci sorprendono. Succede allora che ci sorprendono.